Dai Tigrotto stai fermo un attimo, dobbiamo dire una cosa bellissima Allora, correva l'anno 2009 quando aprivamo Caniagate TV Channel Tu Tigrotto non ce l'hai ancora, neanche Pepito, non ce l'avate ancora ma eravate già nei miei sogni E cosa è successo? Che abbiamo aperto anche il canale YouTube E YouTube per poter incominciare a diventare partner del progetto devi raggiungere 4000 view, 4000 ore di visualizzazioni Bene, ci è voluto tanto tempo, tanto tempo, tanto tempo e finalmente oggi è arrivata la comunicazione ufficiale da YouTube Quindi Caniagate TV Channel entra finalmente all'interno della partnership di YouTube E questo per me è veramente un orgoglio per tutte quelle persone che hanno collaborato e stanno collaborando con noi E sono felicissimo, veramente felice, felice, felice E quindi adesso la mia testa incomincia a frullare perché sto già pensando a nuove cose da sviluppare Oltre al progetto che adesso stiamo quasi quasi per partire È un nuovo progetto dedicato a tutti coloro, a tutti questi rifugi che aiutano i pelosetti cani e gatti E ovviamente anche le persone che ci lavorano all'interno di questi rifugi, di questi canili Bene, adesso vi faccio vedere che cosa ci è arrivato Super, super, super orgoglioso Ed è un momento veramente felice della mia vita perché oltre a Caniagate TV Channel che sta andando veramente molto bene Ma io ne ero certo perché come in tutte le cose se vuoi raggiungere un obiettivo devi comunque darci dentro Darci dentro, non ti devi mai fermare, non devi lamentarti Devi continuare, abbassa la testa, vai avanti, vai avanti Credi fortemente in ciò che fai perché è questo che può darti soltanto il risultato Può portarti veramente qualcosa di grandioso e di entusiasmante Quindi ho venuto molto felice perché oltre a Caniagate TV sto sviluppando delle nuove realtà Sto studiando tantissimo, ho già preso dei certificati importanti per quanto riguarda i social media Ho ripreso a fare un'attività che avevo lasciato ovviamente alle spalle due anni fa Ok, quindi non vi dico nulla ma chi è attento, chi è attento avrà già capito E quindi sto riprendendo anche da quella parte Quindi ho la parte di social media manager Ho la parte comunque di Caniagate TV Channel Che sono il papà, io sono contentissimo E poi c'è anche quest'altra cosa che si sta Sta prendendo piede E io sono molto 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 felice I due pazzi stanno facendo la lotta Oh ehi allora, tutti e due, Pepe Pepe è un martello eh Pepe non molla niente Pepe è un martello Tigro è un po' più paciocotto ma Pepe Grazie, grazie